Dopo la bagarre politica scoppiata a Roseto per lo spostamento del consultorio a notaresco il sindaco del comune costiero Mario Nugnes ha annunciato nel corso dell'ultimo consiglio comunale straordinario che quando saranno pronti i locali individuati dall'amministrazione in via Marina tutti i servizi del consultorio torneranno in città. Non vogliamo scendere e non siamo voluti scendere in polemiche che d'altronde hanno voluto solamente coloro che dovevano gettare benzina sul fuoco ma abbiamo voluto in qualche modo spiegare cosa in pochissimo tempo ha saputo e voluto fare questa amministrazione nel mettere a disposizione quando ci è stato chiesto appunto dal 22 di agosto un nuovo locale per il consultorio sanitario a livello comunale del distretto più ampio della provincia di Termo. Via Marina soluzione condivisa ottimale che darà un servizio al nostro avviso migliorativo rispetto al passato inoltre è stata un'occasione per fare chiarezza su cosa è stato fatto in questi due anni a livello sanitario dalla ASL per il comune di Roseto ma direi con il comune di Roseto non ultima ma importante l'affidamento dei 2 milioni e 6 della casa di comunità qualcuno diceva libro dei sogni in realtà quel protocollo di intesa che qualcuno rivendicava è stato ed è un libro dei sogni questa casa di comunità è una realtà Roseto avrà una casa di comunità. Lavori da circa 60 mila euro che una volta completati permetteranno di inserire all'interno dell'edificio anche altri servizi per la comunità ma al momento sui tempi dei lavori per adeguare i locali di Via Marina non ci sono certezze bisogna infatti trovare le risorse e poi appaltare gli interventi necessari. La tempistica per il consultorio e gli uffici si sono messi al lavoro oggi anche questa mattina c'è un sopralluogo per affinare quelle che sono le richieste che l'ASL visto che adesso si sta cercando di andare in una soluzione che comunque avrà qualche anno di utilità in attesa della costruzione della casa di comunità. Penso che ci sarà qualche mese di tempo necessario noi cercheremo di accorciare questo qualche in massimo un mese a volta che avremo il computo entro il 15 di ottobre come ho detto in consiglio ho già trasmesso una richiesta all'assessore veriti di finanziamento ma in ogni caso troveremo risorse all'interno del nostro bilancio. Ovviamente la regione deve dare una risposta se vuole dimostrare vicinanza al comune quindi è un appello che faccio e dopo bisogna comunque dimostrare è stato molto interessante l'intervento dei medici dell'ASL i servizi perché anche in questi anni la colpa della politica è stata non far percepire l'importanza dei servizi e la qualità degli stessi noi dobbiamo lavorare anche in questa direzione.